Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Power Pivot. Quest'oggi andremo a vedere come funzionano le funzioni di Previous Day, Previous Month, Previous Quarter e Previous Year. Oltre a queste vedremo poi anche come funzionano le Next, che alla fine sono identiche a queste, solo che si scrive Next Day, Next Month e così via. Come si calcola la Week, la Previous e la Next Week lo vedremo in un'altra lezione, altrimenti andremo troppo lunghi. Allora, nella precedente lezione che cosa abbiamo visto? Come realizzare una tabella del calendario. E questa tabella è fondamentale per quello che andremo a fare oggi, in modo da avere sempre il dato consistente e presente. Allora, andiamo nel file di esempio e vediamo cosa ho fatto e come funziona la cosa. Qui ho fatto una base dati molto semplice, che ho praticamente 3 anni di venduto, ok? Quindi ho la data nella prima colonna, poi ho il prodotto nella seconda e poi ho la quantità venduto nella terza colonna. Questa tabella l'ho portata in Power Pivot, quindi sono andato nel menu Power Pivot e ho fatto aggiungere modello dati. Ok? Sono partito da qua come base dati dal mio Excel. Sono andato in Power Pivot e praticamente qui l'ho relazionata con una tabella del calendario. Che cosa ho relazionato? Il campo data, la data del venduto con la data del mio calendario, dove ho tutte le giornate degli ultimi 3-4 anni, quello che è stato progettato in questa tabella. Perché nel venduto potrei avere anche delle informazioni che non sono in linea. Ad esempio qui ho l'1, ho il 2, ho il 3, ho il 4 e poi vedete sul 5 e sul 6 non ho avuto nessun tipo di venduto. Quindi, sullo tabella infatti, non ho un calendario consistente con tutte le date. Quindi se andiamo qui in questo primo foglio, vedete la Previous Day, no? Quindi cosa significa? Che io ho questo qui, ok, ho fatto il calcolo sbagliato, ma per farvi capire la differenza, che cosa ho fatto? Praticamente mi sono, vabbè, filtrato l'anno 2021, poi ho tirato giù la data dalla tabella del venduto, quindi dalla mia tabella dei fatti. Quando io tiro giù l'informazione da qua, che cosa mi compare? Mi compaiono tutte le date che sono presenti nella tabella dei fatti. Però cosa succede quando io vado a calcolare il Previous Day? Cos'è il Previous Day? Voglio sapere il venduto del giorno precedente, quindi vedete che questa è la quantità originale, ok? Quindi ho 683 nel giorno 4 gennaio 2021. La Previous Day mi dice che nel giorno 5, il giorno precedente, quindi nel giorno 4 avevo 683. Quindi, vedete, sta funzionando anche nel modo corretto. Però se osserviamo, nel giorno 1 io avevo 586 pezzi. Quindi, se guardiamo qui, il giorno 2 gennaio non c'è. Perché nel 2 gennaio 2021, ok, attenzione che qui vi stavo mostrando il 2019 se pensavo che ci fosse 2, ma se andiamo a cercare il 2021, il 2 gennaio, probabilmente era un sabato, un domenica, che sono proprio, io ho eliminato i weekend da questa base dati. Quindi, non essendoci il 2 gennaio, non mi può fare il Previous Day del 5,86, quindi del primo gennaio non me lo va a mostrare. Se invece andiamo a guardare da qua, quest'altra tabella, qui la data la sto prendendo dalla tabella del calendario, dove ho tutte le informazioni. Quindi vedete, ho l'1 e il 2. Infatti qui mi calcolo il Previous Day 5,86, eccolo qua, e addirittura riesce a calcolarmi il 5,14 perché la tabella del calendario ha anche il 31 dicembre. Qui vedete che è bianco, probabilmente perché il 31 dicembre, per il primo motivo, sulla tabella di fatti non c'è. Allora non riesce a calcolarlo. Comunque, cioè, c'è, però non riesce comunque a calcolarlo. Qui invece riesce a funzionare correttamente, proprio perché la dimensione che è presente nella tabella del calendario è consistente, ci sono tutte le date dell'anno. Vediamo una cosa sul contesto filtri. Se io tolgo le misure, vedete che qui praticamente c'è 1,4. Torniamo indietro. Qui abbiamo 1,2,4. Vedete che se io tolgo la quantità, ok, mi compare 1,2,5. Se tolgo anche la Previous Day, ok, vedete che mi dà 1,2,3,4,5, me le dà tutte. È giusto che funzioni così. Ma perché sta funzionando così? Perché io non sto esprimendo nessuna misura nel riquadro dei valori in basso a destra. Quindi che cosa succede? Quando io tiro giù una dimensione da una tabella anagrafica, quindi vediamo il nostro diagramma sterile, se io tiro giù una dimensione da qua e non ci associo a nessuna misura, lui me la esplode per intero, ok? Non va a farmi filtri. Me la esplode. Quindi se io qua ho dentro 100.000 record su questo campo, univoci perché ovviamente la pivot raggruppa, ok, lui mi esporrà 100.000 record. Se poi di qua ne ho 10 di record, e questa qui quando tiro giù la misura mi va a filtrare, ad esempio qui da 100.000 diventano 10, perché se di qua ce ne sono 10 di qua non possono essere più di 10, ok, mi taglia tutti i record, applica il filtro a questa dimensione qua. Difatti se noi andiamo proprio a vedere, vedete Previous Day, io mi tiro giù questa, ecco che lui ha fatto il filtro, mi ha tolto tutti gli elementi dove la Previous Day è nulla, dove non c'è risultato. Quindi viene applicato un contesto dei filtri. Se ridiamo giù la quantità, vedrete che compare anche il 4, vedete, è comparsa anche il 4, perché mi fa vedere la quantità qui. Dopo qui ovviamente potete andare a farvi il calcolo della percentuale, facendo questo, scusate, la somma meno questo, diviso la somma, così avete la percentuale, e avete un raffronto di come sta andando rispetto al giorno precedente. Quindi per fare questa misura, giustamente perché non ve l'ho ancora fatta vedere, come si fa? Si fa un calculate, quindi qua era quello sbagliato, perché era sbagliato? Perché appunto io facevo la misura, due punti uguali, calculate, poi gli dicevo somma di che campo, del campo quantità presente nella tabella venduto, punto e virgolo, andiamo a dargli il contesto dei filtri. Quindi qui si scrive Previous Day, e gli si dice la data di riferimento, quindi il giorno precedente rispetto a cosa. Allora quella sbagliata era sulla data, che era dentro la tabella di fatti, la data del venduto, e abbiamo visto i problemi che genera prendendo questa data di riferimento. Se invece andiamo su quella corretta, è identica, solo che a posto di mettere la data del venduto, appunto mettiamo la data del calendario. Tutte le altre sono uguali, quindi è sempre calculate, sum, diciamo la somma della quantità che ci interessa, previous, month, e poi prendiamo sempre la data, sempre la data, non il mese, la data del calendario. Il quarter, anche qua, previous quarter, e si prende sempre di riferimento la data. Year è la stessa cosa. E si mette il year. Andiamo a vedere cosa succede, andiamo sul previous month, qui io mi prendo giù il mese di riferimento, vedete qua ho messo anche quello numerico, per avere l'ordinamento. Vedete che qua ho quantità 13,5 su gennaio, e poi se guardo la previous month, ok, su febbraio vede appunto 13,5,6, che era proprio quella che c'era su gennaio. Se andiamo a vedere il quarter, anche qua vedete che funziona regolarmente, andiamo a vedere l'anno, anche qua vedete che funziona regolarmente. Attenzione a una cosa, allora, se andiamo sul quarter, vedete che qua praticamente io ho preso anche l'anno, perché qua ho filtrato il 2021, ok, è per quello che sta funzionando. Se io qua tolgo il filtro 2021 e faccio all, vedete che il previous month non funziona più. Ma perché non funziona più? Perché gennaio è posto su più anni. Se io voglio farla funzionare, ok, dovrei prendermi il campo dell'anno, e dovrei tirarmelo giù. Allora così vedete che funziona, perché il calcolo, ok, non riesce a fare il calcolo, sommando anche tutti i mesi di tutti gli anni, e poi farvi il previous. No, deve essere sempre la relazione con la data specifica, perché lui va indietro, se lui mi mostra febbraio, lui vi dà il dato di gennaio, ma dello stesso anno. Quindi se io tolgo la dimensione dell'anno, ok, e quindi ho questo tipo di granulità, e qui non vado ad applicare il filtro, ovviamente questa è incalcolabile, non riesce a farla, perché lui cerca, su febbraio, va a cercare il gennaio dell'anno precedente, però ne trova tre di anni, e quindi questa cosa non può funzionare. Se filtro il 2021, vedete che invece funziona, perché sto ragionando su un singolo anno. Quindi attenzione a queste cose qua. Se guardiamo ad esempio il quarter, anche qui è la stessa cosa, vedete, ho dovuto mettere in linea l'anno, quindi o vi create un'unica dimensione, che fa anno più quarter, e tirate giù il campo che fa così, e allora funziona regolarmente, ma se io qui tolgo l'anno, ad esempio lo metto in cima, vedete che non funziona più, ed è corretto che funzioni così. Quindi questo è quanto. Poi faremo un approfondimento aggiuntivo, potenziando un pochino questa formula qua, tra un paio di lezioni, perché tra un paio di lezioni, andremo a vedere la datess, year to day. Poi nella prossima lezione vedremo il date add, che farà una cosa simile a questa del previous. Vediamo un'ultima cosa, poi chiudiamo, quindi dicevamo che se vogliamo fare il next quarter, ad esempio, noi basta che mettiamo al posto di previous, e ci mettiamo ad esempio next. Qua adesso, anzi facciamo una bella copia di questa, facciamo la copia del quarter, la copiamo qui con ctrl c, ctrl v, qua ci mettiamo next quarter, e qua giù ci mettiamo il next. Se noi adesso andiamo, adesso qua mi è sbagliato, previous, ok, ok, pasticciato un pochino, quindi se noi adesso andiamo qui, e ci tiriamo giù anche il next, eccolo qua, quarter, e ce lo mettiamo qua, vedete che appunto il quarter next, mettiamolo a destra magari, ok, vedete che il next, ok, quindi è l'uno, qua mi dà il 40 e 28, perché è sul Q2, 40 e 28, quindi qua lui mi fa vedere, quello che sarebbe nel prossimo mese, quindi c'è il previous, e il next. Con queste formulette qua, riusciamo a ottenere queste cose, molto molto velocemente. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, spero sia stata di vostro gradimento, se così è, lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e ricordatevi che se siete abbonati al canale, potete anche scaricare questo file di esempio, per esercitarvi appunto su quello che avete visto durante questa lezione. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!